Mi chiamo Ferdico Antonino Vengo dalla Zisa, la Godigarda Lavoro in un ristorante e pizzeria Campeggio La Quercia Questo impasto è stato fatto Con una biga corta Di 16 ore in frigo Poi ho fatto un polish E dopo di ciò ho fatto Dopo le 24 ore L'impasto In questo impasto Ho utilizzato una tipo 1 Per fare il polish La rimacino Il grano duro per fare la biga E poi una 00 Manitoba Per dare comunque Un impasto un po' più tenace Il sapore è gradevolissimo Perché c'è un incrocio di sapori C'è un dolce, un saporito, un contrasto Molto Molto bella da presentare Ma fa parte di un tuo menu Solo di proposito Ok Ok, complimenti Grazie Sinceramente per me A primo impatto È molto È molto bella anche da vedere Il gusto è molto delicato Secondo me Hai preso un buon abbinamento Grazie C'è un buon equilibrio Grazie 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 Grazie